Grazie a tutti coloro che sono rimasti fino alla fine. E qui vediamo di fare un po' il punto della situazione su quella che è un approccio multimodale alla prevenzione dell'ischemia midollare. L'ischemia midollare che non è solo un problema di sedia a rotelle, è un problema purtroppo molto più grave che comprende l'incontinenza, infezioni ricorrenti, piaghe da decubito, trombosi, depressione grave. Tutto una serie di sintomi che portano all'80% di questi pazienti a morire entro due anni. Quindi l'ischemia midollare è decisamente devastante. Nella prevenzione abbiamo diversi aspetti che possiamo perseguire. Cercare di mantenere il più possibile l'apporto di sangue al midollo spinale. E come farlo? Per esempio cercando di evitare coperture eccessive quando questo non è strettamente necessario, reimpiantare le intercostali nella chirurgia aperta, cercare di preservare le fonti di circolazione collaterale che sono soprattutto la succlavia e le ipogastriche, questo è estremamente importante, evitare di trattare in maniera contemporanea patologia sincrona a livello addominale e toracico, come facevamo una volta, e soprattutto molto importante nelle procedure ortiche complesse lo staging in due o anche tre passaggi successivi in modo da dare al tempo a questa circolazione collaterale di poter supplire, come abbiamo visto nella discussione precedente col professor Ez. Un altro aspetto rilevante è quello dell'ottimizzazione della perfusione esistente. Quindi un dato molto importante è quello della valutazione e ottimizzazione della funzione cardiaca. Noi sappiamo che circa la metà dei pazienti con patologia dell'orta toraco-addominale ha anche una cardiopatia ischemica che è passibile di correzione e questo ci permetterà di evitare i problemi di instabilità emodinamica nel periodo perioperatorio durante la procedura ortica che anche per le procedure endovascolari rappresenta uno stress formidabile sul cuore. Il drenaggio del liquido cefalo-rachidiano che eseguiamo rutinariamente con un'apparecchiatura che si chiama Liquogar che permette di controllare sia la pressione che il volume di liquido cefalo-rachidiano drenato, quindi toglie l'errore umano dall'equazione, una cosa molto importante e lo utilizziamo per tutti i pazienti che operiamo a cielo aperto di estensione 1, 2 e 3 e nei casi delle procedure endovascolari quando copriamo due o più territori per territori si intende su clavia un territorio, l'orta toracica un altro, l'orta addominale un altro e le ipogastriche un altro. Ovviamente cercare in tutti i modi possibili e immaginabili di evitare sanguinamento perché l'ipotensione è una delle cause principali dell'ischemia midollare. Se dobbiamo usare una metodica di abbassamento dei valori pressori per l'inserimento dell'endoprotesi usiamo una metodica che permette di essere convertita molto rapidamente quindi di non lasciare strascichi di ipotensione, quella scelta da noi è il rapid pacing tenere la pressione abbastanza elevata in questi pazienti nel periodo peri e post-operatorio e alla fine, infine, cercare di fare una diagnosi precoce di eventuali problematiche e lo facciamo intraoperatoriamente con i potenziali evocati avete sentito una serie di interessanti relazioni su questo argomento per il momento noi lo facciamo, li impieghiamo nella chirurgia aperta tuttavia esistono altri gruppi come per esempio il gruppo della Mayo di Oderic che è anche un interessante protocollo per l'impiego dei potenziali evocati nell'endoprotesi e come avete sentito evitiamo le anestesie locoregionali che non ci permettono di avere una valutazione clinica quindi o un'anestesia locale pura o un'anestesia generale pura e quindi abbiamo la possibilità di fare una finestra neurologica di sapere la situazione clinica del paziente prima che esca dalla sala operatoria tutte queste cose messe insieme ci hanno permesso di ridurre in maniera significativa la paraplegia purtroppo il problema non è scomparso, esiste ancora e ci stiamo sforzando il più possibile lo avete visto anche oggi per cercare di venire a capo di questo problema grazie